Ok, per questo esercizio vi servirà una mente elastica. Impugnatele con entrambe le mani e portatela davanti a voi. Da qui le mani saranno sempre in posizione sbalzata, quindi una sarà vicina al vostro corpo e una sarà distesa. Che cosa dovrò andare a fare? Dovrò andare a invertire la posizione delle braccia. Quindi, con una mano dovrò fare una pro e con l'altra invece cercherò di distendere le botaniche del braccio in avanti. Ritornerò in posizione di partenza e ripeterò. Come sempre ricordate di maniera ben attivo. La parte centrale dell'addome è importantissima per lo svolgimento completo dell'esercizio, dal quale genererai completamente il movimento. Quindi non sarà un movimento di braccia dipendente, ma di addome dipendente. Francesca. Di spendio. La parte centrale dell'ed hostel di braccia dipendente è importante. D'acquick. Ci придemare ben attivo.